Un altro video delle 100 cose, interessante Buongiorno amici, sono andata a un evento di Officine Cobalchini Con cui collaboro da un sacco di tempo Best Buddies Che si è tenuto in un circuito go-kart qua in zona Milano E fortuna vuole che i go-kart siano una delle 100 cose da fare prima di morire Facciamo le qualifiche dove ogni componente ha 10 minuti in pista in cui gira Componente 1 della squadra del team TOC Componente 1 della squadra OLA Facciamo i turni di qualifiche Ogni tempo che parte è importante perché la somma dei tempi va a decretare la prima miglia di partenza Ovviamente appena arrivati lì ci hanno fatto un po' di briefing generale su come funziona la pista Come comportarsi Tocca a dire involontario naturalmente ci sta In grasso cattivo e deciso Perché voglio superarti Vedo che esagerate per i temporamenti sono applicata ad avere una calmata Pari squadre e ci hanno diviso in una decina di squadre se non sbaglio Da 4 persone l'una Ognuna con un numero Il numero 1 Il rosso Il paletto Il rosso No prima dobbiamo mettere Ci ha detto che prima dobbiamo mettere Il paracostolo Io sono finita nella squadra ovviamente femminile Perché eravamo tipo 5 o 6 ragazze In tutto E una squadra ovvero la mia Eravamo 4 ragazze Non è stata proprio l'idea del secolo Simpatiche Però io sono sempre team donne Che figata Noi siamo fortissime Però non puoi competere con degli uomini Che pur di vincere ti lanciano praticamente fuori dai go kart Un po' competitivi Pochino Io ho già perso il mio team In grasso pista Allora raga Siete pronte o no? Prontissime Team donne Ci chiamiamo team talk Che è tutto un programma Già come nome Facciamo che ci impegniamo Facciamo finta di essere brave Facciamo finta Esatto Vabbè Stira la pista Eccetera eccetera Metà piedi un conto In macchina è un altro Però Vi fermate nella parte coperta E vi scriveremo in griglia In base di tempi che avete fatto Ok Siete fermi qua Il semoforo farà Rosso Mi raccomando Occhio la prima curva Cheat State prendendo appunti Sì Abbiamo fatto i primi giri di prova Com'è andata? Somma Somma Ora molto più difficile Di quanto pensassi Non è semplice Per niente Ci sono ovviamente Le ruote che fanno contrasto Non so Le parole tecniche Ma il volante era stra duro Giravo così tanto Che mi giravo Facevo tipo testa a coda Quindi non riuscivo a ripartire Quello è stato quello che mi ha fregato Perché magari invece Sarei riuscita A finire la gara E a farla bene Magari non arrivare ultima Però era la mia prima volta Vedremo Vedremo Madonna è difficile Sì Guardalo Abbiamo quindi fatto le prove Tutti i numeri 1 Tutti i numeri 2 Tutti i numeri 3 Tutti i numeri 4 Ed è ripartito tutto Dai numeri 1 Con la gara E anche qua È andata Posso immaginare E che forneggiore il nostro team è ovviamente primissimo le altre hanno ovviamente recuperato l'importante è partecipare la cosa più bella era che l'evento era per youtubers quindi era una sorta di reunion di un sacco di youtuber che si sfidavano ai go kart quindi non solo ho fatto una delle cento cose ma l'ho fatto con un sacco di colleghi di youtube e la cosa è stata molto fica e niente nonostante il nostro grandissimo impegno non ce l'abbiamo fatta mi sa che siamo arrivate ultime perché tutti riponevano un sacco di fiducia nei miei confronti che è stata malamente distrutta è stato divertente a parte la nausea dopo un po' però fico la sostanza è che adesso dell'ultima gara non mi frega anche a nessuno perché c'è il cibo quindi diciamo che vado, mi lancio tutto grazie a tutti per esserti stati per l'attenzione premio polemica a interno a mani basse in tele un applauso a Michele Montez miglior sgommata Giovanni Poiz c'è un paio di boxer nuovi questa cosa con rimonta Cernobadi premio vestito tecnico premio simpatia Marti Rosso Nera Vincere questa prima edizione della Formula Tuber Tim Motobike E anche oggi abbiamo fatto una delle cento cose da fare prima di morire come scritto nella felpa in serena ci abbiamo fatto abbiamo messo un'altra spunta alle nostre cento cose musica